buongiorno eccomi con la stimaia mistica numero 4803 anche in questo numero abbiamo tanti capolavori ma il capolavoro per eccellenza naturalmente è il mio gioco mi hanno pubblicato un anarebus ringrazio bardo che me l'ha accolto un bel disegno vediamo come si risolve l'anarebus se questo in centro ecco di solito a pagina 6 ci sono giochi della sfinge e spesso qui sotto ci sono tre giochi dello stesso tipo spesso anarebus qualche volta immago o verbis che sono varianti di rebus va bene va bene va bene anche di quelli ho presentato alcuni filmati per cui se qualcuno è curioso guardi pure allora cosa c'è c'è un canestro mi sembra un canestro però è un po' curioso che intorno ad esso ci siano delle noci e io dovrò scrivere questa cosa che ho detto con altre parole probabilmente seguendo come la pista cifrata seguendo la numerazione la prima lettera la metto dove c'è il numero 1 la seconda lettera dove c'è il numero 2 la terza lettera dove il numero 3 e così via ecco adesso metto in sovrappressione anche l'immagine così avete un attimo per studiarla allora vediamo un po' ci sono numeri da 1 a 12 guardate da 1 a 12 oppure si può anche contare quindi io dovrò usare una parola di 12 una frasetta di 12 lettere per dire che c'è quel canestro fra noci allora fra noci mi sembra palese perché ci sono tutto attorno quindi fra o tra noci sono 7 lettere mi mancano per arrivare a 12 5 quindi quella parola è cesto allora guardate l'immagine mettiamola anche in sovrappressione e io scriverò e adesso mi viene il dubbio cesto o cesta e dopo potrebbe essere tra noci o franoci comunque le lettere sono 12 quindi comincio a scrivere c al numero 1 e già mi viene un po' il dubbio perché quindi la prima parola di 4 lettere terminerà per c poi e al 2 e s al 3 t al 4 e lascio libera la 5 perché non so se è o o a cesto o cesta lascio libera anche la 6 perché non so se è fra o tra 7r 8a 9n o 10 c 11 i 12 e ormai adesso ho capito che la frase risolutiva è crack inatteso ecco vedete i rebus io questa volta sono riuscito a trovare come tanti altri autori trovano delle frasi mai usate questa crack inatteso con questa parola così non non solita inattesa con questa parola inattesa e me l'hanno pubblicato perché vuol dire che nessuno ce l'ha pensato quindi la parola non era cesto ma cesta non era tra ma fra noci cesta crack inatteso risolto anche questo ciao